Allora, cari amici, bloccato su YouTube, il video lo facciamo lo stesso perché è doveroso e poi ci rimettiamo a metterlo su Telegram e su Face. Vedete, vedete, vedete. Di che cosa vi voglio parlare oggi? Vi voglio parlare del caso di Sonni Colbrelli. Sonni Colbrelli, Sonni Colbrelli. Gli appassionati di sport e di ciclismo sanno di chi sto parlando. Si tratta di un ciclista professionista famoso, importante, 31 anni, naturalmente un fisico della Madonna, un atleta della Madonna in grado di vincere fra le altre cose un campionato italiano e la Parigi-Roubaix, la Parigi-Roubaix, niente po' di meno della Parigi-Roubaix dello scorso anno, di pochi mesi or sono. Stiamo parlando della Parigi-Roubaix, stiamo parlando della classica, delle classiche, stiamo parlando dell'università del ciclismo. Purtroppo questo sfortunato giovane, 31enne, ha avuto un grosso guaio il 21 marzo, un grosso guaio cardiaco, nel 21 marzo del 2022 e nella giornata di venerdì, gli è stato impiantato un defibrillatore, un defibrillatore, un salvavita, dopo la miocardite, miocardite, quella che Pregliasco dice che è una sciocchezza, sì, che si guarisce in poche settimane. Adesso Pregliasco, vediamo cosa va a dire a Sonny Colbrelli, che ha la carriera finita, che sta vivendo un vero dramma, lui e la sua famiglia e tutte le persone che gli sono vicino, miocardite, impossibilità di continuare la carriera, carriera finita, operazione e impianto di un defibrillatore salvavita. Stiamo parlando di un 31enne, di un ragazzo di soli 31 anni, la cui vita, a cui facciamo i migliori auguri, ma è chiaro che la sua qualità di vita ne risente pesantemente e è chiaro che la sua carriera è finita, è chiaro che anche il danno economico è abnorme, abnorme, abnorme. Che dire, miocardite, dopo una miocardite, stavamo parlando di un ragazzo sanissimo che andava fortissimo, di un atleta di primissimo livello assoluto e tanti, tanti, tanti ciclisti stanno avendo dei grossissimi problemi, marcati problemi e si ritirano dalle corse o non riescono a finire una tappa qualunque, non riescono più neanche a stare in gruppo, vedete, vedete, vedete. Naturalmente sia un bel dire che non c'è nessuna correlazione, che sarebbe successo comunque, eccetera, eccetera. Ma è quanto meno strano che succeda ad atleti di valore assoluto e ai giovanissimi. Figuratevi cosa può accadere a chi ha 60, 70, 80 anni e non ha il potenziale fisico di un sonni colbrelli. Quindi non dimentichiamo, non facciamo finta di non vedere, non derubrichiamo tutto a compluttismo, ma usiamo la testa. Che dire, io naturalmente non posso che fare gli auguri sentitissimi a sonni colbrelli, sperare che il danno sia minore possibile, augurargli tutto il bene possibile, non più ritorno all'attività agonistica, perché giustamente nessuno gli darà mai più la licenza. E quindi una grossa perdita anche per il movimento sportivo italiano. Gli auguro di rimanere nell'ambiente, magari di fare il dirigente, l'allenatore, lo scopritore di talenti, ma gli auguro soprattutto di far sì che questo suo grande sacrificio non sia vuoto, non sia vano, non sia inutile, non sia fine a se stesso. Per cui io spero che Sonni Colbrelli, da quel grande uomo che sicuramente è, trovi il coraggio, la forza di guardarsi dentro, percepisca, e spero che qualcuno gli giri questo video, percepisca la vicinanza di tutti gli sportivi e di tutti gli italiani. Non so se ti pregliasco di altri, tipo i burioni, di il caso, ma di gran parte degli italiani e che voglia esporsi per raccontare la sua esperienza, per raccontare i fatti, nelle scuole, con dei video e, perché no, cercare di avere un ruolo sociale importante, perché può dare un grande segnale a tutti gli italiani, fare un po' quello che ha fatto Alex Zanardi a proposito della disabilità, un esempio da un grande campione del ciclismo. Quindi, Sonni, permettimi di darti del tuo, anche perché hai più di 20 anni meno di me, potresti essere mio figlio, un abbraccio fortissimo e contiamo su di te per il futuro e spero che qualcuno riesca a farti pervenire questo piccolo video, questo piccolo omaggio. Hai fatto la storia del ciclismo, la Roubaix non te la toglierà nessuno, puoi fare la storia della politica italiana e comunque puoi fare un'opera altamente etica portando in giro in tv, nelle scuole, la tua esperienza di vita e il dramma che hai vissuto in modo tale che non sia fine a se stesso. Grazie per l'attenzione e iscrivetevi al mio canale YouTube anche se è bloccato per una settimana e anche se questo video quindi non posso caricarlo e non lo vedrete. Vi ricordo anche SharkTube, Giorgio Riccardini, il profilo SharkTube e vi ricordo il canale Telegram, ma soprattutto se riuscite chi conosce. Sonni, cercate di fargli avere questo video, di fargli sentire tutta la vicinanza umana possibile e immaginabile da parte mia in primis e di tanti, 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 tanti italiani. Qualcuno dovrà pur rendersene conto.